No, 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 con te, Silenzio! Silenzio, mi perdoni! No, ci mancherebbe! Però, ma meglio farci la sigla! Silenzio! Aspetta! Se ho fatto una bella vita così, odio che parlo! Assolutamente! Vai, nonno! Vai, fanno un discorso attorno e diaploga, non ho un tisù buono! Dimmi, dimmi, parla! Quello che gli vuoi dire, diggielo adesso! Sì, adesso! Ora! Vai, dimmi, dimmi! Senso, già che abbiamo avuto la fortuna di avere un sindaco giovane e l'assessore giovanissimo, però a Nardò dovevi fare cose più necessarie. Adesso te le dico, senso tanti lamenti ai giovani che crescono. No, è chiuso lo piano regolatore, una vita e non si sblocca! E sulla casa, e sulla casa lavorano tutti, in fine volontà, pregamoci, di lavorare e crescere e portare una famiglia avanti. Ci vuole un coraggio, ci vuole un coraggio sbloccare a vent'anni, questo piano regolatore. E quando? E quando? Proprio, sono dici e tanti anni. La voglio dire prima di morire. La voglio dire. Fra tre anni, al posto dei consiglieri di opposizione, ti candidiamo a te? Perché io sono nata... O se no ci candidiamo insieme, mentre c'è la coppiata uomo-donna. Gente, ci candidiamo insieme. Di gode rosa. Sono nata in cia la politica, due fratelli assessori, uno democratico e uno socialista che è qua. Non so nemmeno... Siamo nati alla politica e capisco qualche cosa. Poi ti mando il giro. Non so nemmeno... Non so nemmeno... Vale, vale, poi ti mando il giro. Non so nemmeno... Non so nemmeno... Non so nemmeno... O voglio dire un'altra cosa? Eh... Antonio mi dispiace... No, no... Ma fare un favore... Certo da rivolgere a CIE... Ha detto a questa cosa... Basta e torna. Oh... Che non ci ha mai... Ma non ci ha mai mai... È un potente di fare sempre. E ne sei chiudere... Ma... ...a capo è la buone... Ma non ci voglio stare... Ma che è l'imperito di più? E l'imperito di più? Fa' bene, sai? poi mi sento con tua nipote oh c'è tempo non si mette mai lì nella coppidenza quanti fiammi così? non si, non è no, è scena è gippicino è gippicino mi saprò a me la cassa in tassi è gippicino è gippicino è gippicino non c'è nulla non c'è nulla io non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla ecco, ecco la seconda veniva con la noce signora oh, no oh sei tempo ancora no 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 dai Grazie.